Semafori per non vedenti, il nuovo progetto avviato dal Comune di Sassari. L'amministrazione ha deciso di partecipare al bando del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili per cofinanziare i lavori, oltre all'approvazione da parte della Giunta nei giorni scorsi del programma definitivo da oltre 87.000 euro. L'obiettivo è una più completa inclusione sociale di tutte le persone cieche e i povedenti, mediante la realizzazione di nuovi percorsi e avvisi sonori nella città. Per permettere spostamenti in autonomia e sicurezza e usufruire dei servizi pubblici e sanitari, i semafori saranno provvisti di segnalazioni acustiche e anche tattili, oltre ad una strutturazione della pavimentazione per una mobilità più flessibile. Le aree interessate ai lavori sono gli attraversamenti pedonali di via Giorgia Sproni all'incrocio con via Francesco Cossiga nel percorso tattile già esistente tra Piazza d'Italia e via Roma.